Compagnia Brivido, sali da qua, primo gruppo a essere premiato i Fiori, Lotto e Passiflora, premia il sindaco Laura Marzi. Grazie a tutti. Secondo gruppo da Brivido, danzatrici, balletto. Grazie. Complimenti. Mercato di strada, carretti e bici. Premia la nostra madrina. Grazie a tutti. Questo e vendeva. Voleva farme engañare, come si chiama? Bene.